carissimo pubblico di auto occasioni ben ritrovati oggi mi trovo da teorema nel salone di esso in compagnia di pino ciao greta ben arrivata a tutti vi ricordo il nostro indirizzo siamo in corso rosselli 181 pino io so che abbiamo tante offerte tante novità raccontaci qualcosa si dici bene partiamo con una splendida ds3 pensate per questo mese con la possibilità di avere un contributo rottamazione la ds3 è vostra a 23 mila 990 euro con la formula free 120 continuiamo con ds4 da 29 mila 900 euro con rottamazione e la formula free 120 signori si continua con questa splendida ds7 pensate con l'incentivo rottamazione la formula free 120 è vostra 35 mila 990 euro a racconto velocemente cos'è la formula free 120 semplicemente la possibilità di avere una rata molto contenuta per i primi 36 mesi con la possibilità di avere compreso nella rata tutti i servizi gomme tagliandi garanzie e via discorrendo ci siamo spostati nel salone citro e ne di fianco a noi abbiamo una bellissima vettura vero pino dici bene greta abbiamo un'ottima vettura che è la famosa citro in c3 e la nuova citro in c3 pensate con la formula free 120 e incentivo rottamazione non è vostra a 11 mila 990 euro proseguiamo con la gamma seguiteci citro in c4 con incentivi statali e formula free 120 da 13 mila 900 euro proseguiamo con una bellissima citro in c5 giusto dici bene greta pensate signore ascoltate il prezzo perché questa è l'offerta del mese c5 aircross benzina avete la possibilità di poterla avere per questo mese a 24 mila 990 con incentivo rottamazione la formula free 120 sarone dell'usato abbiamo tantissime offerte pino io so che questo weekend abbiamo una vendemmia dell'usato che cos'è dici bene la vendemmia dell'usato vi permette su alcune vetture dal prezzo di cartello pensate vi risparmiare addirittura 4 mila euro poi vi farò degli esempi andiamo a vederli signori facciamo il primo esempio per quanto riguarda questo fine settimana della vendemmia dell'usato perciò pensate prezzo di listino 22 mila 900 euro perciò dovete togliere i 4 mila euro perché questo fine settimana vi diamo un'offerta vantaggiosissima abbiamo una citro in c4 space tour 1500 del 2020 a soli 19 mila 790 euro signori come potete vedere da teorema non trovate solo citroen pensate questa camic solo per questo fine settimana con la vendemmia dell'usato da un prezzo di listino di 23 mila 900 euro sarà vostra 16 mila 900 euro continuiamo con una wave 2 chilometro zero il prezzo interessantissimo quindi venite a scoprirlo signori in teorema come potete vedere trovate anche delle chilometri zero come questa splendida wave 2 azzurra e vostra un prezzo molto interessante sempre con la formula free 120 signori splendido suzuki il fuoristrada d'eccellenza pensate un chilometri zero è vostro con la formula free 120 a 19 mila e 500 euro 500 x 1.6 multijet con pochissimi chilometri può essere vostra 19 mila e 900 euro signore attenzione al prezzo ritorniamo in casa opel per proporvi questa splendida opel crossland pensate 83 cavalli e percorso pochissimi chilometri questo fine settimana con la vendemmia dell'usato e vostra 12 mila 890 euro vettura aziendale citroen c3 1200 con pochissimi chilometri con la formula free 120 a soltanto 15 mila e 500 euro signori vi presento questa splendida 500 hybrid e un chilometri zero con la formula free 120 pensate vostra 13 mila 890 euro cos'è la formula free 120 semplicemente la possibilità di potervi dare una rata molto contenuta con tutti i servizi tutti i servizi cosa significa cinque anni di polizza cinque anni di garanzia cinque tagliandi e un treno di gomme a scelta la possibilità dopo cinque anni di poter sostituire la vettura o di pagare la maxi rata finale perciò venite a scoprire da teorema questa splendida 500 hybrid lancia y12 con la vendemmia dell'usato potete averla soltanto 9.900 euro signore si continua con questa splendida opel crossland 1200 benzina 83 cavalli vettura aziendale immatricolata nel 2022 percorso pochissimi chilometri attenzione il prezzo è vostra con la formula free 120 e solo per questo fine settimana a 15.900 euro di fianco a me una ds4 con cambio automatico a pochissimi chilometri ed è vostra soli 34.900 euro signore attenzione al prezzo questa è una splendida citron c5 aircross a benzina perciò il 1230 cavalli motore che consuma pochissimo è vostra 20.490 euro con la formula free 120 abbiamo un t rock pochissimi chilometri può essere vostra 24.400 euro signori splendida c4 fill pack 130 cavalli vettura aziendale percorso pochissimi chilometri e vostra con la formula free 120 e in questa settimana ancora di più perché abbiamo la vendemmia dell'usato a 20.290 euro signori c5 aziendale 1.500 turbodiesel 130 cavalli cambio automatico pochissimi chilometri e vostra 23.290 euro tantissime offerte e tantissime novità mi raccomando noi vi aspettiamo qui vi mandiamo un grandissimo saluto e pino ricordiamo innanzitutto la sede e poi che cosa c'è questo weekend dici bene greta la sede corso rosselli 181 da teorema questo fine settimana c'è la vendemmia dell'usato sappiate che su ogni cartello su ogni prezzo di ogni vettura abbiamo pensate fino a 4.000 euro di sconto perciò venite a trovarci noi vi aspettiamo e vi mandiamo un grande saluto da greta da pino e da teorema grazie 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 grazie